Ciao ragazzi, ben ritrovati! Oggi voglio fare con voi due chiacchiere su un argomento che ricorre molto spesso nei commenti Come scegliere e preparare lo zaino per affrontare un'escursione giornaliera? Ricevo tantissime domande sullo zaino, in particolare su come sceglierlo Oggi vi dico la mia, precisando sempre che sono considerazioni fatte sulla mia persona che voi dovete poi riadattare a quella che è la vostra situazione e a quelle che sono le vostre esigenze Prima di cominciare ragazzi, come sempre vi chiedo di lasciare un bel pollice all'insù se vi piacciono i contenuti che vi porto, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo che vi arriva la notifica appena esce un nuovo video Comincio col dire che prima ancora di scegliere lo zaino, secondo me, dovete scegliere cosa portare durante le vostre escursioni giornaliere Dovete mettere insieme tutto il vostro equipaggiamento, vedere quanto spazio occupa e a quel punto avete già ottenuto un primo parametro utile, ossia il litraggio che deve avere il vostro zaino L'equipaggiamento varia in funzione della tipologia di ambiente che decidete di affrontare In linea di massima un ambiente montano sarà più impegnativo rispetto ad un ambiente di bassa quota quindi richiederà più attrezzatura e quindi richiederà uno zaino un po' più grande Quindi che tipologia di escursione vi piacerebbe fare maggiormente? Volete fare delle escursioni in montagna? Volete fare delle passeggiate nei boschi? Secondo me questa è la domanda iniziale che dovete porvi se siete dei neofiti Mettiamoci nel caso di un'escursione nel bosco in un ambiente collinare di bassa quota Questa è probabilmente la prima tipologia di escursione che vi troverete ad affrontare se vi state appassionando ora al mondo dell'escursionismo Vi faccio vedere cosa porto io per un'uscita del genere Io comincerei subito con una giacca in più che di solito è una giacca di tipo Arcel ossia una giacca in grado di proteggerci dalla pioggia e dal vento Il classico giveaway che si portava una volta con la differenza che questa qui oltre ad essere impermeabile è anche traspirante quindi più confortevole e più efficiente Altra cosa che è necessario portare è dell'acqua La quantità valutatela voi Io se sto fuori una giornata ne porto come minimo un litro Se appunto decidete di stare fuori una giornata vi servirà del cibo Il classico pranzo al sacco Io di solito porto un paio di buste di bivo Ciascuna di queste può fungere sia da pranzo che da merenda abbastanza spinta Vi ricordo che ho una collaborazione con la ditta quindi inserendo sul sito il codice landscape10 potete acquistare bivo con un 10% di sconto Questi che vi ho mostrato sono dei pasti già pronti per essere consumati Se preferite invece cucinare qualcosa dovrete portare con voi anche un piccolo set cucina Quello ve lo mostrerò in un altro video che vi lascio sulla schermata finale Ok, esauriti questi primi oggetti Il kiwei, l'acqua e il cibo che sono quelli più ovvi o meglio dovrebbero esserlo perché poi in montagna se ne vedono di tutti i colori Che cosa ci manca? Mancano tutta una serie di oggetti che io chiamo dotazioni di emergenza e che sono degli oggetti che appunto ci consentono di affrontare una situazione di emergenza, un imprevisto che potrebbe verificarsi durante la nostra escursione Subiamo un infortunio o perdiamo l'orientamento Siamo costretti a fermarci, a chiamare i soccorsi Le dotazioni di emergenza servono a non peggiorare la nostra situazione nell'attesa che vengano a riprenderci Cominciamo con un piccolo kit di primo soccorso Questo contiene il necessario per trattare ferite superficiali e punture di insetti Alcuni hanno kit di primo soccorso molto elaborati Io no perché le mie conoscenze di primo soccorso sono basiche Quindi preferisco portare quelle poche cose che so utilizzare Il pericolo più imminente quando si va in montagna o comunque ci si avventura in ambienti naturali isolati sono gli oggetti atmosferici Il freddo, la pioggia in particolare Se fa freddo e contemporaneamente piove la situazione non è bella Dobbiamo assolutamente evitare di bagnarci per evitare appunto di perdere calore rapidamente e di andare in ipotermia La giacca impermeabile l'abbiamo Aggiungendo un telo e una decina di metri di cordino abbiamo l'occorrente per costruire un rifugio di fortuna che ci può riparare dalle intemperie Basta tendere il cordino tra due alberi e attaccare le due estremità del telo a formare uno spiovente una sorta di tettoia sotto la quale ripararsi Le due estremità del telo che rimangono a terra possono essere fissate con dei picchetti fatti di legno Altra dotazione importante per ripararsi dal freddo è una coperta di emergenza Io questa la porto sempre anche perché il peso e l'ingombro sono veramente trascurabili Se fa veramente molto freddo e siamo costretti a passare la notte fuori si può pensare di accendere un fuoco quindi è bene avere con sé l'occorrente per accenderlo Ci serve come minimo un innesco ed un'esca Io qui ho messo alcune cose molto semplici a titolo di esempio un accendino dell'accendifuoco un firesteel un pezzettino di fungo esca Voi potete metterci quello che volete l'importante è che sia un qualcosa che vi permetta di accendere il fuoco rapidamente e senza difficoltà Preciso che io qui sto parlando di fuoco in relazione ad una situazione di emergenza Se accendete il fuoco per cucinare le salsicce può essere che vi fanno la multa Il fuoco oltre a proteggervi dal freddo può essere utile per segnalare la vostra presenza Cos'altro si può usare? Un fischietto ad esempio Io questo qui lo porto sempre attaccato allo zaino Una torcia con funzione stroboscopica Anche una semplice bandana colorata come quella che ho adesso in testa può servire per segnalare la vostra posizione ma non solo Ve la potete mettere in testa per ripararvi dal freddo La potete usare per fare una fasciatura La potete usare per filtrare l'acqua È bello oltre che funzionale avere nel proprio equipaggiamento oggetti che hanno molteplici utilizzi Ultimo ma non meno importante è un utensile da taglio Anche un semplice coltellino multiuso può esservi utile per sbrigare tutte le faccende di cui abbiamo parlato prima Tagliare il cordino, costruire il rifugio, fabbricare i picchetti eccetera Ok ragazzi una volta messo insieme tutto l'equipaggiamento il lavoro grosso è fatto perché a questo punto la scelta dello zaino non sarà una cosa poi così difficile Basta scegliere uno zaino che sia di qualità e uno zaino che sia comodo Scegliere uno zaino di qualità è importante perché appunto lo zaino serve per contenere e trasportare tutto il vostro equipaggiamento Quindi è bene che sia robusto e duraturo nel tempo Per quella che è la mia esperienza quando si tratta di litraggi molto bassi Quindi nel caso delle escursioni giornaliere non occorre spendere cifre folli per avere degli zaini di qualità Quando avete speso 35, 40 euro, 50 euro avete uno zaino ottimo Altro fattore importante è la comodità Dovete scegliere uno zaino comodo che vi consenta di portare del peso sulle spalle senza troppe sofferenze Come si fa a capire se uno zaino è comodo? L'ideale sarebbe provarlo Non so se avete mai fatto caso se andate ad esempio da Decathlon o nei negozi di articoli outdoor più forniti Nella sezione degli zaini ci sono dei sacchetti come delle sacche grigie con sopra indicato il peso in kg Quelle sacche non sono altro che dei pesi che servono appunto per provare gli zaini Una volta scelto lo zaino che vi piace ci mettete all'interno i pesi e lo provate In quel modo potete capire se lo zaino è comodo, se si adatta alla vostra conformazione fisica Bene ragazzi questo era il contenuto del mio zaino per un'escursione giornaliera Andate subito nei commenti a scrivermi cosa c'è invece nei vostri zaini Che me lo vado subito a leggere così magari trovo qualcosa di interessante da aggiungere Vi ricordo come al solito che in descrizione trovate i link di tutti i miei profili social Andateli a visionare specialmente quello del Fall Adventure Gathering perché è in preparazione l'edizione 2020 Grazie per avermi seguito anche questa volta, state bene e ci vediamo ad un prossimo video